Salve a tutti. È nota la vicenda dei docenti depennati dalle GAE per non aver presentato per tempo la domanda di aggiornamento delle graduatorie che si sono visti espellere dalle graduatorie di esaurimento anche dopo tanti anni di permanenza. Dopo i numerosi contenziosi attivati ai docenti depennati, la giurisprudenza sia amministrativa che ordinaria è giunta ad un punto fermo, sia ad affermare il diritto al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento addirittura con efficacia retroattiva e nel bando di aggiornamento legale del 2019 l'amministrazione ha finalmente preso atto di questo orientamento giurisprudenziale consentendo il reinserimento in GAE dei docenti depennati. Questi docenti dopo essere stati reinseriti in GAE in alcuni casi hanno verificato che nell'emore dal depennamento al reinserimento avrebbero potuto ottenere l'immissione ruolo se avessero avuto la possibilità di partecipare alle relative operazioni avviate dall'amministrazione. In particolare molti avrebbero ottenuto l'immissione ruolo nell'ambito del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge sulla buona scuola. Sono partite quindi numerose cause innanzi ai tribunali del lavoro i quali effettivamente hanno accertato come in seguito al reinserimento in graduatoria con efficacia retroattiva molti di essi erano stati in grado di dimostrare che avrebbero potuto ottenere l'immissione ruolo e conseguentemente i giudici del lavoro ne hanno dichiarato proprio il diritto ad avere conferito un incarico a tempo indeterminato con efficacia retroattiva. Addirittura in molti casi i giudici del lavoro hanno anche riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da ritardata assunzione pari a tutte le retribuzioni che i docenti avrebbero percepito dal giorno dell'immissione ruolo fino al giorno dell'effettiva stipula del contratto a tempo indeterminato. Quindi c'è la possibilità per i docenti depennati e successivamente reinseriti in gaia in virtù di sentenza di poter verificare se nelle more avrebbero potuto ottenere l'immissione ruolo e rivendicarne il diritto innanzi al giudice del lavoro. Bene, vi invito a seguire la tecnica della scuola sul suo sito, sul suo canale youtube e sui canali social per essere costantemente aggiornati. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti.